Buonasera, benvenuti al Tg regionale per sordi. La Procura Generale di Firenze ha fatto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini assolti dalla Corte di Appello per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese, morta precipitando dal balcone della loro camera d'albergo il 3 agosto 2011 durante una vacanza a Mallorca in Spagna. I due giovani residenti a Castiglion-Fibocchi in provincia di Arezzo erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Arezzo a sei anni per tentata violenza di gruppo e morte come conseguenza di altro reato. Il Tribunale stabilì che Martina era caduta mentre tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale da parte dei due. Il 10 giugno scorso il verdetto è stato ribaltato in appello. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della Rifle & Co. Storica azienda dei jeans e della moda casual di Barberino di Mugello che adesso conta complessivamente 96 dipendenti tra la sede e i negozi in Italia. Lo rendono noto i sindacati. Dopo anni di crisi pur con investimenti importanti anche da fondi esteri entrati nel 2017 questa azienda non ce l'ha fatta ad uscire dal tunnel certamente reso ancora più buio dalla pandemia mondiale. Il Tribunale ha disposto l'esercizio provvisorio per 45 giorni. Si sarebbe assentato dal lavoro presentando falsi certificati medici o facendo vidimare il badge ad altre persone. Insieme ad altre due persone avrebbe pilotato un concorso per l'assegnazione di tre posti da dirigente medico in radioterapia alla AS 8 di Cagliari. Avrebbe gestito in modo arbitrario le liste d'attesa per i pazienti in radioterapia a Nuoro e infine avrebbe calugnato un collega. Sono le ipotesi di reato contestate ad Andrea Scapati, 52 anni di Firenze, oggi in servizio a Roma. Nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti a Torre del Lago uomini delle volanti e dell'anticrimine della Polizia di Stato di Viareggio hanno deferito alla Prefettura di Lucca per uso di stupefacenti quattro giovani trovati in possesso di grammi di cocaina ed hashish. Le persone segnalate provengono da Lucca, Pietrasanta e Massarosa. Numerose inoltre le persone identificate e i veicoli controllati per presidiare una delle zone di viareggio più battute da chi alimenta il mercato degli stupefacenti. Un giovane di Viareggio, poco più che ventenne, ha trovato alcune banconote in via Garibaldi e senza pensarci un solo istante, con pieno senso civico, le ha consegnate ad una volante della Polizia di Stato. Il ventenne ha anche chiesto ad alcuni negozianti vicini ma non c'era alcuna traccia del legittimo proprietario del denaro. Così ha chiamato il commissariato ed ha consegnato il denaro ad una volante. Sono in corso accertamenti per identificare la persona che ha smerrito le banconote che potrà ritirarli al commissariato solo fornendo particolari che gli verranno richiesti. La Camera di Commercio di Lucca ha stanziato come contributi a fondo perduto 900 mila euro per sostenere le micro e piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid-19 dovendo chiudere temporaneamente l'attività durante il cosiddetto lockdown. Le domande per accedere ai contributi camerali possono essere presentate dal 15 ottobre alle ore 15. La Giunta Camerale ha deciso di destinare le risorse alle imprese con valore dei ricavi nel 2019 inferiore o uguale a 1,5 milioni di euro e che hanno subito nel periodo tra il primo marzo 2020 e il 31 agosto sempre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021 ci siamo mossi per tempo e questo ha consentito di coinvolgere molti soggetti e preparare iniziative di grande qualità. Lo ha affermato Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali e Turismo intervenendo alla presentazione del programma delle celebrazioni oggi a Firenze. Mi pare un elenco di iniziative ha aggiunto che corrisponde perfettamente a quello che abbiamo immaginato per il 2021, un modo corale di coinvolgere tutto il paese con iniziative che parlano di Dante. Un intervento su un tradiccio elettrico per favorire la nidificazione del falco pescatore tornato a nidificare in Italia nel 2011 dopo quasi mezzo secolo di assenza. Succede nella riserva naturale regionale Padule-Orti-Bottagone nel comune di Piombino. L'azienda elettrica spiega una nota ha effettuato un'operazione di sbassamento del tradiccio che è fuori servizio da alcuni anni ma è stato preservato proprio per trasformarsi in alloggio per l'avi fauna che popola l'oasi. Tutto è pronto al Mugello per il secondo appuntamento con la Kermes che raccoglie i più importanti campionati italiani di auto. Oggi le prove libere e le prime qualifiche poi sabato e domenica andranno in scena le gare ben 12 in totale. Lo spettacolo sarà a porte chiuse per le limitazioni anti-Covid ma sarà possibile seguire tutte le gare in televisione in streaming sul sito di ACI Sport e sulle pagine social dei rispettivi campionati. E adesso le previsioni del tempo per domani in Toscana molto nuvoloso o coperto tra la notte e la mattina con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità. Attenuazione dalla tarda mattinata con ancora fenomeni ma più isolati nell'interno della regione. In tarda serata nuovi rovesci e locali temporali in arrivo sul nord-ovest. Venti forti da sud tendenti a ruotare rapidamente a sud-ovest in mattinata. Raffiche fino a 70-90 km orari o localmente superiori su costa, arcipelago e zone collinari superiori a 100 km orari sui crinali. Mari agitati a nord dell'Elba generalmente molto mossi altrove. Temperature minime in lieve aumento massime in diminuzione. Era l'ultima notizia grazie per averci seguito arrivederci.